Credo che sia il circuito che ha vinto Visconte l'italiano. Non è un arrivo facilissimo, so che sale leggermente, c'è anche un po' di lastricato sullo strappo. Vediamo, sicuramente qualcuno magari nel circuito proverà a fare qualche attacco, ma credo che alla fine sarà una volata di gruppo e vediamo, cercherò di fare il possibile.